Benvenuti o bentornati sul canale, anche oggi siamo qui per un'altra recensione, oggi ci occuperemo del seguente libro, eccolo qua, Ennio Innocenti, la conversione religiosa di Benito Mussolini. Partiamo subito! L'autore, Don Ennio Innocenti, nasce a Pistoia nel 1932, studia a Roma al Collegio Capranica, poi filosofia alla Pontificia Università Gregoriana. Viene ordinato sacerdote nel 57 e svolge l'ufficio di viceparoco in varie parrocchie della capitale per circa sette anni. È insegnante sia di religione che di filosofia e svolge questo ruolo per diversi anni, continuando comunque le collaborazioni contestate radiofoniche e giornalistiche. È scrittore, oratore, giornalista e filosofo. L'autore, con questa opera, vuole tracciare il percorso, sia spirituale che di rapporto col cattolicismo, di colui che rese destini d'Italia per circa vent'anni, dalla sua fanciullezza fino agli ultimi giorni prima dello scempio di Piazzale Loreto. La prima parte si suddivide tra l'educazione cattolica ricevuta da fanciullo, i primi ribellismi anticlericali dovuti all'avvicinarsi alle idee socialiste, per poi passare alla maturazione spirituale dovuta sia all'esperienza nella prima guerra mondiale, sia alla fondazione dei fasci del XIX, alla marcia su Roma, fino ad arrivare alla crisi dopo il delitto Matteotti. La terza parte viene incentrata più sulle esperienze di guerra. Infatti troviamo le reazioni e i rapporti col Vaticano tra le varie guerre mussoliniane, dall'avvallo civilizzatore alla guerra di Etiopia, fino alla benedizione come crociata nell'intervento nella guerra civile spagnola, alle perplessità dopo la promulgazione delle leggi razziali, fino al tentativo del Vaticano di impedire l'entrata dell'Italia nella seconda guerra mondiale, fino alla caduta del fascismo nel luglio del 43. La quarta parte è un pochino meno storica e più spirituale. Infatti si concentra molto sul percorso spirituale di Mussolini, dalla prigionia badogliana, in cui si annota la lettura della vita di Cristo di Ricciotti, fino alla liberazione dal Gran Sasso da parte delle forze germaniche e tutta l'epopea della Repubblica Sociale Italiana. Qui troviamo la descrizione del rapporto tra Mussolini e varie personalità religiose, per fare un esempio fra Ginepro da Pompeiana e il Cardinale Schuster, che accompagneranno gli ultimi giorni del duce del fascismo, fino all'esecuzione e alla barbarie di Piazzale Loreto. Il libro, assolutamente interessante in sé, anche perché offre una nota biografica di Mussolini assolutamente nuova e originale, ha però un vizio di fondo, ovvero si sente tantissimo, la volontà dell'autore di forzare la conversione di Mussolini verso il cattolicesimo. Ovviamente le caratteristiche pragmatiche mussoliniane ha fatto in modo che il duce utilizzasse il cattolicesimo per questione di consenso e propagandistiche. È anche ovvio che comunque la dottrina spirituale del fascismo, al contrario del materialismo marxista o liberale, non ha tutto questo astio verso le concezioni religiose. Detto questo, comunque è un libro assolutamente molto interessante, è un libro da avere in libreria e da leggere. E anche oggi abbiamo finito la nostra analisi del libro, vi ringrazio di avermi seguito, iscrivetevi al canale, mettete mi piace se vi è piaciuto, se avete impressione scrivetele pure sotto, in sovraimpressione. Io vi saluto caramente, vi ricordo che chi legge vive mille vite e chi non legge vive una vita sola, e ci vediamo alla prossima!